vai dobbiamo riparare, cosa dobbiamo riparare Leo? guarda questo buco, questo buco, giusto? è un grosso buco, ok? quindi dobbiamo riparare, bisogna mettere la terra sopra il buco ti posso aiutare? sì guarda ho preso un grosso ne hai preso tanta ho preso tanta terra ok, e adesso che abbiamo messo questo, questo qui cos'è? lo appiattiamo bravo qui mi raccomando, qui bene ok così poi le macchine possono passare, giusto? ok possono già passare? sì oh no andiamo è rimasta incastrata? no ce la fa? sì wow è chiuse la porta si è chiuse la porta, sì wow wow